Ciao ragazzi a tutti sono Ian, sono di nuovo qua sul PBA con il nuovo rework di Aatrox Se vi siete persi quell'originale dove l'ho giocato nella sua lane originale, ovvero la top lane Dove ho anche spiegato le spell, andate a rivedervelo perché qua non le spiegherò di nuovo E adesso voglio provarlo un po' in giungla perché in top lane ho fatto parecchia difficoltà In top lane ho avuto parecchia difficoltà, ora non so se è perché sono un hub io, ok? O perché ero anche contro un counter eccetera, però Però ho veramente fatto fatica in top lane, ora voglio vedere, sembra un elfo alto, sembra l'armatura degli elfi alti di Skyrim o di Oblivion Ora voglio vedere però appunto se in giungla è meglio, voglio vedere se in giungla è meglio, tu mi devi dare la mano Voglio vedere se in giungla è meglio Ho già provato a fare delle personalizzate da solo in training e da solo riuscivo abbastanza tranquillamente a clearare i minion Quindi, boh, secondo me ce la posso fare anche qua Gliela posso fare anche qua, credo Ah, ci manca la di carry, ha detto che si riconnetteva Cioè ci sono parecchi bug mi sa Mi deve dare una mano tarica e basta, eh, avrò un pull non molto bello Ok Eh, così i danni sono veramente tanti, eh Non si fa così tanta fatica I cooldown della Q sono grossi Quantate che sono senza la di carry ora Avessi avuto la di carry probabilmente avrei fatto anche meno fatica Ok Qua dovrebbe essere facile Oh, ho sbagliato la Q Ok Mi sono incastrato in mezzo ai minion Perfetto Realizziamo un'altra pozza La di... Poi il poco a di si fa sentire, eh Mica di già Ma che cazzo è? Due secondi ci ha messo Il poco a di si fa sentire Ehi Lol Oh no Abbiamo avuto la stessa idea Eh, ma che mi tocca fa Targa, ma è già così Venga, se già è così Via 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 Ok Mi sono salvato in qualche modo Eh, per scappare, ripeto Per scappare è parecchio buono Lui ha usato il flash Ce l'avrei fatto da solo Se avessi avuto pressure dal mid laner, ovviamente Resettare gli otto attacchi all'inizio è difficile Perché di attack speed non ne abbiamo E diciamo che non ne avremo mai Perché Sì, ha dei cooldown enormi Ha dei cooldown veramente, veramente enormi È un botto difficile utilizzare È un botto difficile utilizzare Amico A gustare non mi piace Le custom sono sempre così C'è poco da fare Le custom sono sempre così La live in 2-3 minuti Non è vero Non ho il ritardo Non ho nessun ritardo sulla live È proprio zero Ma proprio niente È da Giangli diciamo che è anche più facile farsi costare Purtroppo ci posso far poco Eh, lo so che me l'avevi detto Però sai, ogni volta penso che ci siano delle persone corrette dall'altro lato A quanto parlo non è così A quanto parlo non è così Io di solito mi fido sempre Però Probabilmente dovevo avere il beneficio del dubbio qua E adesso sarà un bordello Ciao Pietro Ora sarà un bordello Anche perché come cazzo ganko? Ok Posso provare a gankare a Botlin Ma vediamo un po' Cioè, non ho sbloccato la WDW perché sono un cretino, ok? Ho sbagliato Ah, rip non lo piglio più Ah, gankare se la WDW non è la cosa migliore Non è la cosa migliore Ma Warby che top lane Vediamo di far così Ok, ora è meglio, eh Ora è un pelino meglio Non troppo, ma Un pelino meglio Oh, devo tornare Botlin, ragazzi Devo tornare Botlin Penso che sia l'unica lane che io posso gankare al momento Solo che ho bisogno che mi dino una mano loro Proprio Ragazzi Mi ha dato una manina Ah Ah, niente Vabbè, almeno ho preso un exhaust, eh No, ma ho anche sbagliato Troppi minion Decidamente troppi minion Decisamente troppi minions Vabbè, che va che è meglio Allora, che mi faccio? Mi faccio subito le... Mi faccio subito lo smite o no? Beh No, probabilmente no No, sì, me lo faccio No, 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 me lo faccio Mi faccio prima questo Mi faccio prima questo Solo io lo vedo laggare No, raga, laggo perché... Laggo perché... Sì, la Tia, ma potevo fare anche la Tia, ma è vero Laggo perché è il PBE Perché la Riot è talmente furba Da non decidersi di fare un server PBE Anche in Europa Purtroppo non lo vogliono fa Andiamo a prenderci il mio Red Sperando di non trovare ancora gente A rompermi il cazzo qua Ora inizio a live stirare un pochino Sarà perché c'ho anche il... Come si chiama? C'ho anche la Runa Questa qua Cioè adesso ce l'ho da 0 Perché non ha fatto un cazzo Sono 0-1 Eh... Potremmo andare a top lane Potremmo andare a top lane dagli aso che sta prendendo il cazzetto Arriva amico Madonna Ok No No Ok L'ho preso Sono riuscito a fare una kill Bono Le la devo pushare? No, non le la devo pushare Sono riuscito a fare una kill Perfetto Ora andiamo via Il Red Anna dovrebbe venire qua Ok Non penso possa uccidermi Forse sì No, ora non più Ora non più Poi ho la ultimate Ok Ah ragazzi Stavo laggando un po' Cioè sto a 140 Cloud Drake è andato Ma ci potevo fare poco Perché giustamente stavo andando di là Allora voglio continuare a farmare un pochino Perché sono parecchio behind rispetto a Warwick Ma a clearare se la cava bene Ma a clearare se la cava bene Ma a clearare se la cava abbastanza bene Non so se è stato il flash Non me ne sono accorto Ma non credo Non credo abbia stato il flash I am oblivion I am oblivion Stai qua è 4-0 Ah, ci ho provato Nooo Aiuto Oddio l'ho presa No ma non lo so se ha usato il flash Non è che me ne sono molto accorto Non è che me ne sono eccessivamente accorto Ora che non mi piace Non mi piace Non lo sento forte Cioè lo sento veramente debole Ripeto Magari so io Sicuramente in mano a un pro è più forte Ma Non so Andiamo back va Allora mettiamo la Tia Ma tutto è questo qua Trinity Ci ho provato prima con la Trinity Ci ho messo un botto a farla La Tiamat è troppo tardi così Cazzo Ho preso la Tiamat a 11 minuti Un pelo tardino Non becchi mai la dove fai il critico Eh sai con 140 di ping fisso è difficile È parecchio difficile Cioè sicuramente è difficile anche senza lag Ma con l'hug eh Ma con l'hug è ancora più difficile Però ripeto Oltre a quello veramente Madonna santo Oltre a quello Non lo sento forte No ho sbagliato L'ho fatto al contrario Oh cazzo Eh posso muovermi lo stesso Ma sono morto Ok no sono morto Anche la ultimate Non lo so Non la sento forte la ultimate C'è A parte che non c'è nemmeno scritto Quanti danni da Non c'è scritto un cazzo Ma dai Raff Raga ma come cazzo stai giocando Mi sa come sapevo che eri lì Ah boh Magia Magia Sapete cosa mi sembra La live di ciccio gamer Quando ho aperto i server Tutti quanti andavano a cercarlo Mi sembra esattamente la stessa cosa Né più né meno Mamma mia Né più né meno Vabbè io una gank l'ho fatta Una gank l'ho fatta Ci si accontenta Però boh Non lo so Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ti ammazzo lo stesso Cazzo Ti ammazzo lo stesso Mo ci fotte Katarina Almeno stavolta è morto Almeno stavolta è morto Ho preso una kill Katia mi ha one shotato Ebbè sta tipo Sta tipo 5-0 Direi che È abbastanza logico Allora mettiamoci questo E devo farmi il black cleaver adesso Ci ho troppo poca vita comunque Ok ora inizio ad avere un po' più di danni Ora inizio ad avere un po' più di danni Però è un bordello resettare gli atto attacchi Perché non ha attack skills da fare C'ha 0.76 a livello 9 È un po' poco Arrivo amico Eh ma dove arrivo Da nessuna parte arrivo Non arrivo da nessuna parte Forse con l'attivamento è più facile resettare Ce lo faccio a fare uno con l'altro Atrox Non credo perché c'ha le black cleaver e le ninja tabby Nope Ma proprio nope Ma proprio nope Oh però l'ho preso con tutto eh Cazzo Forse riesco Ok sono riuscito però È sopravvissuto No Mori bestia No Che sfiga Eh però Ok Adesso i danni ne ho fatti veramente tanti Contando che lui ha pure le ninja tabby Contando che lui ha pure le ninja tabby I danni ne ho fatti molti eh Forse ci mette un po' a scalare Beh ci potrebbe anche stare Se ci mette un po' a scalare ci può pure stare Io non so se farmi le tabby perché Katarina è fiddatissima Però sì perché ha la gunblade Funziona anche un po' contro di lei dai Ok stiamo un po' prendendo tutti quanti il cazzo Siamo 5 a 20 Mi piace questo numero rework Onestamente no Onestamente non mi piace Devo essere sincero Come facevi a sapere che vuol dire Onestamente no Però ripeto Può darsi che sia io scasso eh Guarda Warwick che sta avendo da me Wow Non l'avrei mai detto Ragazzi a me Intristisce a flammarvi ma siete veramente tristi Siete veramente delle persone tristi Io di solito non flammo quelli che mi guardano Che giocano con me ma se voi siete veramente tristi E forse devo immaginarmelo Non faccio più custom Dopo facciamo normal Ora capisco cosa prova ciccio gamer Capisco cosa prova ciccio No dopo Prime impressioni È difficile Poi ripeto Sarai lag E ma no è difficile È veramente difficile Rispetto a come sei abituato prima È difficilissimo Perché la Q è veramente Non è facile Poco per niente Cioè devi di Non so devi essere Fermo Per Per riuscire a utilizzarla bene L'è veramente difficile Ragazzi perché mi prendete per il culo Su un gioco a cui io gioco da sette anni Please Almeno non mi pigliate per il culo Almeno quello Lascia di sangue quando sono full vita XD Almeno ditelo Siamo dei pezzi di merda Ti stiamo gustando E io lo accetto E io lo accetto Perché tanto cosa posso fare Oltre a quello Madonna santa Ho fatto 800 di critico Con l'ultimo colpo Ragazzi Ragazzi Sento Custom non ne faccio più Ormai l'ho capito Sì sì Va bene ragazzi Va bene Sì beh ci ho provato Ci ho provato Ci ho provato Io continuo nella mia opinione Che siete veramente delle persone triste Questo video non lo faccio manco uscire Non ha senso fare un video dove Ho per tutto il tempo detto che sono Non avrebbe veramente senso Come funziona la W doppia? È una specie di incatenamento Funziona tipo Funziona tipo la R di Orianna Più o meno eh Sì Sì Sce di sangue full vita Mi mancava Eh ragazzi Eh sapete La stessa cosa del Avete visto i negozi Dove c'è scritto Non si fa più credito a nessuno Per colpa di qualcuno Ecco è la stessa cosa Che poi questi cartelli Vengono Cioè li ho visti solamente in Italia Cosa strana No ma no Ma non soprendiamo Divertiamo Cioè divertiamo Sti cazzi Di che altro perché Se faccio uscire un video del genere La gente dice che Che non mi devo lamentare Che ciccio gamer 2 Lo so già Già lo so E vorrei evitare Allora vediamo un bo Sto farmando un botto però Perché gostare Eh si chiama mania di protagonismo Ragazzi Si chiama mania di protagonismo Sì ma Cioè gli MS sono allucinanti Ma io l'ho detto Riot Porca perché Lol Ulta ulta Riot Perché non mettete un server PVE Anche per quelli che non stanno In Nord America Cioè non è che costa molto Farlo Credo almeno Sì no Appuntatore è carino Morco 2 Allora Black Cleaver Eh vorrei farmela Ma ancora non sto Non sto pieno Se avendo questo la prendo No No è carino il puntatore Fa Sa di moderno È carino il puntatore Sa di moderno All'era io non la fai più L'ho già fatta L'ho fatta Questa qua Speciale Atrox Anche se ho perso male Eh però No ma io ci credo che ci siano le world Ma non ogni campo in cui vado Ma non ogni campo in cui vado Ups Sorry Però ora inizio ad essere forte Oh ora inizio ad essere forte Eh Ok Ora iniziamo ad essere forti Ora iniziamo ad essere fortini Adesso Adesso però Cioè ci ho messo un botto Ma ci può stare Contanto che siamo No beh sono anche a livello 14 Forse non è Ok Un'altra cosa che non mi piace è che l'attack speed sia veramente basso Se non sbaglio tutti i campioni hanno almeno uno Quando sta a livello 15 Questa c'ha 0,85 Ma un po' poco Pure la passiva che non si applica Che si applica pure i minion non la capisco La passiva che si applica i minion non la capisco Eh È una passiva che riduce le cure e fa danno sulla vita massima Perché andrebbe a funzionare sui minion? Per sprecarla Nessuno può fuggire dalla propria ombra Cura i Tenshi grazie mille del suo Bello Ben tornato in canale Concordate con me? Cioè che senso ha? Fare una passiva Che riduce le cure e fa danno massimo sulla vita E la fai sui minion Secondo me non ha senso Proviamo a metterla a Dead Dance La terza Q quanto range ha? Poco Guarda eh Molto poco Molto poco Secondo me ce la faccio a killarla Da solo ovviamente Con l'altro Aatrox no Non utilizziamo ancora la ultimate Ok non capiamo Ok Perfetto Ma è durata di più la R? Ho visto male io Mi pareva che è durata un botto Sarà perché l'ho maxata il 2? No 12 secondi lo stesso Ma devo stare attento a Warwick perché Ora mi vede sì Ora non più No infatti ma giocare con così tanti MS è tostissimo infatti Cioè non riesco manco a resistare gli adattati Oh però Ora Sto diventando non dico forte ma Quasi Cioè ora che ho messo queste tre cose Forse se chiudo anche la Death Dance lo sono ancora di più Chiudendo la Death Dance lo sarò sicuramente ancora di più Ok Ragazzi aspetta un attimo Fermi tutti Fermi tutti che vado back Fermi tutti Ah penso che scali bene Penso che di essere d'accordo Minchia c'ho 348 di AD Con la E arrivo a 397 Ok adesso penso di essere forte Però Ripeto in teamfight Penso sia difficile Lo stesso Oh ho preso questa No Ok ha flashato Ok Dai aiuto Aiuto Non capisco nulla Mi sono sacrificato Eh no così non ci facciamo No così Così di faccia è troppo difficile Cioè così di faccia l'ho sbagliato io Così di faccia non si può fare Quando i nemici sono troppo fideli Vabbè colpa mia colpa mia Non dovevo ingaggiare Non dovevo ingaggiare Siamo veramente troppo behind Per fare un ingaggio del genere Dovremmo tipo giocarcela sugli obiettivi No ma infatti ho sbagliato io a Ho sbagliato io a All'ingaggiare Però beh Era giusto per Era giusto per vedere se posso fare Q flash Sì posso farlo Posso fare Q flash Malmortis Ragazzi ho un botto di roba da mettere Ma penso che più della Malmortis Devo farmi una Una spirit visage Ok Yasuo ha avuto paura lì Penso che la spirit visage Sia meglio Onestamente What 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 Build ill Cioè Black Cleaver Stairhack Black Cleaver Stairhack Deadlands Eh ci sta Ci sta Sì Ci sta Ah ma Katarina è qua Ah ok Non l'ho mica visto Allora un attimo ragazzi Non fightate Ok Arrivo io Ah ok Avete vinto Buono A Caesar la gente Non è facile eh Non so nemmeno che cazzo ingaggiare Noo mari Oddio ok Buono Shutdown È tanto difficile in fight Ciao Liudani È tanto difficile in fight È tanto difficile in fight Cazzo Sono a livello 17 Sono diventato enorme Come ho fatto a livello 17 Non lo so Ok Perfetto Allora Sì Eh i danni li faccio sì Ora che sono a livello 17 E c'ho 300 E c'ho 300 di ad Ora però Allora Non so se metterlo Sterak O direttamente la spirit di Esa La spirit mi pare buona Ne farò quella La spirit mi pare buona Ora sono forte Sì Il problema è piazzarli i danni La Q fa male adesso Parecchio C'ha 287 di scaling Qualche torre la prendiamo Eh È difficile La potremmo provarci Buona quanto parla ragazzi Buono Doppio noca Ok questo è morto Ok È morto pure l'altro Ok È morto pure quell'altro Buono No Questo tizio Buono Ragazzi sto facendo disastri Uccidete San Crispino Uccidete San Crispino Aiuto Vai Yasuo Vai Yasuo Siamo tutti noi Sì sei tutti noi Buono Ok Non è andato male questo Questo non è andato per niente male Riusciamo a prendere una dannata torre Riusciamo a prendere una dannata torre Ok Oh la prima torre del gioco Finalmente Meno male che Taric ha stunnato Porca puttana Se non stunnava lui Ciao Chi la pigliava più Katarina Posso fare così? Uh posso Io ho ancora stati amati che non sto Sono ancora stati amati che non sto andando avanti Oh sono al 18 Più di così Ora posso solo andare behind Ora posso solamente calare Buon Buon Vuole ingaggiarlo Finchè sono tra livelli sopra una cosa Oh non riesco a prenderla Ok l'ha presa l'or Perfetto Ho un po' sprecato la mia ulti Un po' tanto Un po' tanto tanto Un po' tanto 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 Ho sprecato la mia ulti Ma di brutto Eh fatemi prendere un po' di live Still No raga no no Non fai diamo Non fai diamo Sto senza Non fai diamo Sì, lo sono da giungle LOL Qua sono i minion? Nope Aspetta un attimo quando la spi- Ah, non ce l'ho Attimo ragazzi, un attimo che piglio la cosa Allora, il red me l'hanno rubato, giustamente Il red me l'hanno fottuto Ho bisogno di un paio di gold per riuscire a prendere la spirit Voglio uccidere Katarina se riesco Non ce l'ho fatta Mamma mia Sono muertissimo ragazzi, mortissimo Eh, non dovevamo ingaggiare così Ho tentato di dirglielo ma son partiti Ok Ora possiamo davvero arrenderci Perché penso che il game sia finito Penso sia abbastanza finito GG Vabbò raga Spero comunque che Potrebbe essere il video del video Lo caricherà lo stesso Piazza Grazie.